Per aiutare le imprese ad un recupero di normalità la Camera di Commercio ha varato tutta una serie di iniziative, tra cui anche alcuni bandi ancora attivi finalizzati a dare contributi a fondo perduto a favore delle imprese dell'area fiorentina. In particolare sono attivi ancora quattro bandi, il primo relativo alla ripartenza in sicurezza, quindi contributi a fondo perduto per tutte le spese sanitarie di sicurezza in luoghi di lavoro, anche per le consulenze finalizzate proprio alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Un ulteriore bando è ripartire sui mercati internazionali, finalizzato a dare contributi a tutte quelle imprese che partecipano a mostre, fiere o missioni all'estero, IVI compreso la partecipazione a eventi B2B su piattaforme informatiche. Un ulteriore bando è quello relativo al ripartire su mostre e fiere in Italia, per coprire i costi di partecipazione a eventi fieristici situati sul territorio nazionale, per concludere infine l'ulteriore e ultimo bando ancora attivo è quello relativo al rafforzamento patrimoniale e competitivo delle imprese cooperative. Per tutte le informazioni di dettaglio relativa a questi bandi è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Firenze. Promo Firenze azienda speciale della Camera di Commercio organizza una serie di incontri virtuali per le aziende di pelletteria, calzatura, abbigliamento e accessori moda. Gli appuntamenti si inseriscono nel progetto Export Hub per informare sull'opportunità di business e cambiamenti nei mercati esteri. Primo incontro il 15 ottobre dalle 12 alle 13 e 30 su pelletteria e calzature in Giappone e Hong Kong. Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre sono in programma due eventi in streaming per parlare di scuola in vista di Fiera Didacta 2021 che si terrà per il quarto anno consecutivo alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dal 17 al 19 marzo 2021. Benvenuta a impresa.it è il portale rinnovato dove vengono presentati i servizi digitali che le Camere di Commercio italiane offrono alle imprese. Identità digitale, fatture elettronica, libri digitali, codici Ateco. Con l'hashtag Noi con le imprese vengono presentati i temi in questo momento più rilevanti e le risposte del sistema Camerale per le imprese.